Accidenta che il serpente maledetto! Si è avuto un problema con la macchina! E la sei ancora fa! E ci serve anche da partire! Ho capito? Ho capito ma... Io ti ci posso fare nulla! D'agosto ci voleva andare a Cavarzano una settimana per prendere un po' di fresco qui c'è un caldo ci si schianta ma lo senti che affa? Qui c'è l'affa c'è il caldo! No io invece vi una settimana a Calenzano! A Calenzano? Si è per dire una settimana a Calenzano! La estero si che succede a fare a Calenzano! E che vuoi fare? Ma le vanno in vacanza ma in mare va a scegliere il buco della strada va a fare il bagno! In mare? O che c'è il mare a Calenzano? Certo! C'è un mare a Calenzano ragazzi! A Riccione se lo sognano! Ma poi tu vedessi c'è l'acqua cosa! La spare! E poi ad essere proprio madonna! Tu vedessi il lavoro! Gli hai il futuro! Capito? Riccione 2! Ho capito ma c'è un lago per farti la tua madre! Come fa? E allora anche tu vada a un meccanico tu ci fissi e tu gliene porti a far vedere perché ti è importante! Io personalmente la porto dai Randelli a Calenzano! Loro fanno il tagliando capito? Con l'olio extravergine d'oliva! Gli hanno gli unici che usano l'olio d'oliva per fare il tagliando! Te la riguardano! Te la riguardano! Adesso! L'officina a Randelli! Ma c'è ora l'appuntamento con stie! Certo! Se tu vai a ridosso per dire c'è pieno! Ma se tu fissi gli è meglio! Anche perché gli arriano tutti da ultimo! Capito? La gente prima di partire la vuole una riguarda! Ha detto! C'è un casino poi! Io per dire quando gliene porto a loro! Gli lascio l'automobile e vuoi su per le croci a piedi! E fa una girata sotto il sole! A prendere un po' di fresco! Capito? Burra e acciughe! Quaola per bere! E via! Su in Carvana ragazzi! Ci si sta da 10 in Carvana! Ma che vuoi mettere te per dire alla gente! Dice! E va sullo stervio! Vabbè! Ma la Carvana gli è superiore ragazzi allo stervio! Comunque vabbè! Io ho l'automobile e ce l'ho già pronta! Gli ho rifatto ora il lampredotto alla frizione! Gli ho messo per dire la... Non è vero! Quando tu rifai il lampredotto alla frizione poi tu sei tranquillo! Tu puoi andare! Tu puoi andare! Tu vai! Tu vai! Oh prima la non saliva eh! Autofficina Randelli a Calenzano! Tu c'ha da a partire per le ferie? Vai a riguardagnare l'automobile! Magari gli ha un defetto o un tu lo sai! Officina Randelli a Calenzano in via Felice Matteucci 7!